Palazzo Chianini e Vincenzi, una mostra che ha un titolo particolare Arti già nato, uguale artigianato. Ecco, ci spiega un attimo un po' il senso, anche che cosa si può vedere e trovare qui. Il senso è molto semplice, qui si dà valore all'artigianato, che è una forma di arte, perché il connubio è molto vicino. Qui noi spugniamo le nostre opere, tutte cose di molta qualità, per far conoscere quello che siamo, perché l'artigianato se ne parla tanto e effettivamente qualcosa di concreto non viene mai fatto. Artigianato, ha detto bene, vuol dire qualità, perché una cosa realizzata anche a mano, con cura, con prodotti selezionati, è sicuramente di pregio. Ecco, quanto però ha sofferto in questo periodo buio un po' per tutti l'artigianato? Ha sofferto tantissimo, perché le botteghe alcune volte potevano essere aperte, ma non si poteva vendere, sicché c'erano delle contraddizioni. Il mercato che sta andando ha valorizzato molto i grandi gruppi delle commerce. Il piccolo artigiano ha grosse difficoltà, perché lavora con le mani, non può fare tutto, non siamo tuttologhi. E bisogna aiutarli in qualche modo, perché il mercato nelle città sta scomparendo le botteghe, fare in modo che nelle città, anche per un discorso di territorio, di crescita del proprio territorio, di dargli in modo che siano aiutati per vendere i prodotti, perché è molto difficile l'avvento di internet. E allora noi consigliamo un salto qui per vedere un po' anche la storia e le origini di tutti noi e quell'artigianato di qualità che è un po' anche il simbolo di Arezzo e della Toscana.